Numeri da record per le donazioni ai trapianti organi in Piemonte nel 2023. Sono stati realizzati 536 trapianti, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente e facendo del Piemonte un modello di riferimento in tutta Italia. In crescita anche i donatori, sono stati 179 in assoluto il miglior risultato di sempre e in aumento del 36% rispetto al 2022, quando si sono registrate 132 donazioni. E' la qualità dei programmi di trapianto ad aver determinato il tasso di successo raggiunto. A confermarlo il Centro Regionale Trapianti, il Centro Regionale Donazioni e Prelievi di Organi e Tessuti e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, che si è confermata all'ospedale al vertice di questa attività in Italia, con 458 trapianti alle molinette più 10 pediatrici. Questi sono numeri senza precedenti, da scandire con estremo rispetto, con attenzione e per i quali non si può che esprimere la totale riconoscenza a nome di tutta la comunità, senza mai dimenticarci che quando parliamo di trapianti, dietro a ogni numero c'è una vita, c'è una vita umana, c'è una persona, c'è una famiglia. Per sottolineare questa vocazione, è stato istituito un Dipartimento Trapianti, a cui afferiscono ben 37 strutture, a dimostrazione di un impegno diffuso e trasversale, capace di fare sistema, di produrre risultati concreti. I trapianti si possono realizzare con successo se tutto il sistema sanitario regionale intorno funziona bene. Se il Piemonte occupa una posizione di eccellenza nella medicina dei trapianti, questo è un motivo d'orgoglio anche per il senso civico e la solidarietà dei suoi cittadini. Nel 2023 sono passate a 23 le donazioni da soggetto con cuore fermo. Un notevole aumento hanno registrato le donazioni di tutti i tessuti, soprattutto cornee, passando da 768 donatori a 1.003. Più di 2.300 giovani si sono messi a disposizione per donare cellule staminali, emopoietiche o midollo osseo.